allora ciao a tutti e benvenuti bentornati su questo mio canale questo video è un video pippone pipino veloce per rispondere a tutti quei commenti che mi avete scritto sotto al video su moman h2 contentissimi di questa nuova evoluzione del prezzo e mi avete chiesto tutti quanti ma io non riesco a condividere la musica come mai ale come si fa allora premettiamo che io con l'interfono come ho commentato sempre a tutti me l'hanno dato lo utilizzo singolarmente principalmente non vado spesso via in coppia col passeggero in due e se capita di andar via con elena non ho mai pensato non ho mai utilizzato l'interfono per condividere la stessa musica quindi in verità non ho mai provato se funzionava visto che vi avete scritto in tanti di questo problema cosa ho fatto ho provato anch'io e il mio primo consiglio era quello di contattare moman perché come trovate questi video in giro non sono io moman e io sono uno che me l'hanno dato per provarlo farvelo conoscere e promuoverlo ok quindi problemi tecnici queste cose qui o altre cose non so io non posso aiutarvi magari qualcosa si posso consigliarvi ma se c'è un problema come questo come come sempre ho commentato contattate ovvio risposto contattate moman non so se l'avete fatto io alla fine ho preso la palla in mano detto o sistemiamo la situazione allora cosa ho fatto ho provato ho aperto le istruzioni prima cosa ho letto punto per lettera per lettera c'è proprio il come si doveva fare io ho provato e ragazzi non sono riuscito neanch'io e cosa ho fatto ho sentito direttamente erica la ragazza che mi segue penso dalla cina di moman nell'azienda e gli ho detto scusa allora io non sono riuscito tanta gente come potete andare a vedere sul video mi ha commentato sotto non riesce c'è qualche problema dopo un paio di giorni con l'ansia che non mi rispondevano finalmente mi ha risposto allora come vedete ho la mail ok sì non si dovrebbe far vedere forse va bene ma comunque eccola qua e adesso ve la leggo e mi hanno commentato questa cosa qui allora ciao alessandro mi dispiace molto di non avervi risposto in tempo ho comunicato con il team post vendita e con il reparto di produzione la funzione di condivisione della musica da lei menzionata in base ai feedback delle vendite dei nostri prodotti finora il problema della condivisione della musica non è difettoso forse nei grandi numeri noi che non riusciamo siamo in piccoli quindi non è un problema vabbè ma potrebbe causare alcuni disturbi a causa della situazione operativa soprattutto in italia questa cosa non so cosa voglia dire gli ho risposto chiedendo delucidazioni e vediamo che cosa vuol dire in italia forse c'è un problema di bluetooth e condivisione non lo so vediamo abbiamo già ottimizzato questa situazione nel nuovo lotto di prodotti quindi magari se andate a comprare adesso quello nuovo funziona però non mi sembra giusto che i nostri no magari se è possibile fare un aggiornamento software visto che ha un attacco lo si attacca all'usb a un computer e si fa un aggiornamento vedremo che cosa ci dicono comunque potrebbe essere ideale anche questa cosa e in seguito organizzeremo la versione italiana del manuale e il video operativo in italiano ok un manuale in italiano ci sta anche no perché alla fine lo si può tradurre il problema che bisogna comprare un prodotto nuovo a sto punto è il video operativo me l'hanno mandato ve lo faccio anch'io vedere qua e comunque o non funziona e quindi Grazie. 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 volta ok a quel punto l'interfono a dobbiamo far riprodurre la musica dall'interfono a quindi con spotify nel telefonino schiacciamo play e parte la musica sul nostro interfono a ok dal sempre l'interfono a premere a lungo il tasto funzione quello grosso ok dell'interfono a dopo aver sentito la richiesta vocale di no che c'è il suono che fa di continuare a premere il tasto funzione per due secondi la condivisione della musica è riuscita quando si sente poi la richiesta vocale quindi dirà qualcosa io ho provato guardando il video e provando anch'io non sono riuscito e ragazzi non funziona quindi mi dispiace che non l'ho provato subito magari non l'avreste comprato però vi ripeto per me non è una funzione importante a me è importante che sia carino costa poco riesco a parlare col passeggero e o con un amico motociclista che si fa un giro con me poi la portata non è potentissima perché è comunque una connessione bluetooth ok se vogliamo qualcosa di più serio più professionale c'è c'è un'altra tecnologia ok ma questo vedremo magari in un altro video e la condivisione della musica quella cosa in più però ricordatevi che con la condivisione della musica non ci si potrà parlare perché il bluetooth è occupato della condivisione musica bisogna cliccare per riconnetterli e parlare quando riusciremo a farlo funzionare quindi vi consiglio e vi spingo anche a voi di contattare moman alla mail scritta in descrizione diteli non riesco a condividere la musica neanche io e li mettete un video di 30 secondi come quelli che vi faccio vedere a voi qua adesso grazie comunque sempre di essere stati qui di avermi seguito e tutto quanto se vi fa piacere mettetemi like o seguite questo banal canale di alefa illa e ci vediamo il prossimo video speriamo di sistemarlo ok al prossimo ciao intercom connesso intercom connesso intercom connesso intercom connesso Grazie a tutti. Grazie a tutti.